Buongiorno e benvenuti allo Squero, la sala conferenze che Homo Faber dedica per tutta la durata dell'evento all'incontri, ai dibattiti e alle conversazioni con i protagonisti del mondo del design, dei mestieri d'arte e della creatività. Per la prossima ora modificheremo un po' il nome della nostra manifestazione, non più e non solo Homo Faber ma anche Molière Faber, ovvero la donna che fa, la donna che con la sua creatività arriva a plasmare il proprio destino e il mondo intorno a noi. Parleremo quindi e ci interrogheremo sulla creatività e sulla progettualità specificamente femminile. È un tema effettivamente attuale, è un tema sul quale interrogarsi, è un tema da porre e sul quale, in merito al quale trovare una serie di risposte. Vedremo che le due protagoniste di oggi daranno dei punti di vista estremamente personali ma anche oggettivamente interessanti. Donne artigiane, donne artiste, designer, manager, esperte, Homo Faber è pieno di creatività al femminile, le curatrici Susanna Pozzoli, Judith Clark, India Madavi, la sala Best of Europe dove moltissime grandi artigiane di tutta Europa hanno lavorato per portare dei pezzi straordinari, la restauratrice Isabella Villafranca Suasson, Denise Pereira che fa i ricami in feltro per un'altra protagonista della creatività al femminile, Joana Vasconcelos. Ma quando si parla e quando si pensa quindi all'eccellenza e alla creatività, a che cosa si fa riferimento nello specifico femminile? Ne parleremo in questa sessione con due invitate, con la storica e critica del design antipansera che ha condotto numerosi studi, che ha pubblicato articoli e libri specificamente dedicati al tema delle donne artiste, artigiane, designer, produttrici. Una delle voci più influenti e significative su questo mondo anche grazie all'associazione Di Come Design di cui è ammirata e seguita presidente. E con Sara Ricciardi, virgulto del design italiano, i cui lavori sono stati descritti non solo come estremamente interessanti, ma anche, leggo e cito, come i più instagrammati della Milano Design Week di quest'anno e anche dell'anno scorso, visto che abbiamo collaborato. Quindi abbiamo prima chiesto ad Antì di porre un po' il quadro, di delineare il perimetro della creatività di progetto declinato al femminile. E poi sarà Sara a darci una testimonianza in prima persona, un punto di vista esperienziale, ma anche creativo, che parta dal suo approccio per allargarsi a tutto quello che oggi un designer, una designer può fare in dialogo con il mestiere d'arte e con la creatività. Per cominciare, prima di dare la parola antipansera, credo che sia utile guardare insieme questo video, pochi istanti, 90 secondi, sono immagini non commentate, con oggetti di design, di artigianato, oggetti creativi, prodotti pensati, ideati da donne. È un estratto di un documento più lungo, prodotto da Di Come Design. Nicolà lo fa partire e lo guardiamo insieme. Grazie. 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 Antì, anche grazie per aver rievocato il nostro donna in bottega fatto a Palazzo Morando insieme, un'esposizione che ebbe veramente grande eco e grande successo. Antì, ti prego di raggiungermi sul podio e di raccontarci chi è la Mulier Faber per te. Buongiorno a tutti. Come ho fatto ad avvicinarmi a questa tematica particolare? Devo dire che ad apertura del 2000 una carissima amica Lola Bonora, a tutt'oggi una ottantenne sul pezzo brillante a cui si deve tutta l'inizio della ricerca sulla videoarte in Italia, mi ha chiamato a Ferrara chiedendomi se ero disponibile a curare la decima edizione della Biennale Donna. A Ferrara da tantissimi anni, dall'84, ogni due anni fanno una grande mostra con il Comune e con la regione dedicata alle diversi aspetti della creatività e della femminile. All'inizio del 2000 mi avevano chiesto se ero disponibile a occuparmi appunto di una Biennale che mettesse in scena le designer. Devo dire che la cosa mi ha molto sconcertata perché pur avendo l'età per poter essere femminista non lo sono mai stata e quindi questa domanda mi ha lasciato molto perplessa. Sono tornata a Milano senza aver dato a loro una risposta e ho fatto tre telefonate a tre amiche, progettiste, architette e designer che avevo già a lungo frequentato. Ho chiamato Gaia Ulenti, ho chiamato Cini Boeri e ho chiamato Anna Castelli Ferrieri, proprio in questo ordine. Gaia mi ha detto che ero matta come un cavallo di buttare via quest'idea, di lasciare perdere queste stupidate, di andare avanti quello che stavo facendo, ma assolutamente questo discorso dalla parte delle donne lascia perdere, una stupidata e basta. Cini Boeri invece è più disponibile, ma no sai potrebbe essere un'idea, quasi quasi, ma di qui, ma di... insomma una cosa qui. Anna Castelli Ferrieri mi ha detto vai, devi farlo, devi farlo perché effettivamente qui mancano certe cose. Anna era stata anche presidente dell'Adi, Anna aveva avuto dei ruoli per la prima volta come donna in tutta una serie di istituzioni anche internazionali e quindi ho cominciato a studiare, a rileggere, a riguardare tutto quello che prima avevo già preso in esame, però usando questa specie di... buttando dentro come un setaccio diciamo tutta questa serie di informazioni al femminile e ripartendo ovviamente dalla mia solita biennale di Monza, triennale di Milano, che è un po' come dire la sigla dall'origine del mio lavoro. E come dire, le risposte sono state abbastanza sconcertanti per certi versi, sia sul numero, quindi non tantissime, facendo un'analisi dal 23 al 2000 diciamo, che anche su certe tipo di tipologie. Per quello che man mano sempre voglio di più e vogliamo sempre di più capire è la specificità di queste figure femminili. La prima mostra che abbiamo fatto appunto a Ferrara, questa decima biennale donna, ha avuto come titolo dal merletto alla motocicletta. Perché? Perché siamo partite dalle artigiane e artiste delle miliars bolognesi per arrivare a mettere il fuoco su più progettiste che si sono occupate di industrial design, ma anche di car design, che abbiamo trovato con grande gioia, devo dire, ma in un bar voi sentirete parlare, sentivate parlare, sentite parlare per esempio di un giugiaro, di tanti nomi importanti nel mondo della progettazione automobilistica, ma se vi dico Giulia Moselli o vi dico Anna Visconti non vi dice niente. Mentre invece Giulia Moselli è una figura che ha lavorato, che nasce, era nata nell'ital design dello stesso giugiaro, ma poi ha lavorato con De Tommaso e poi ha messo su un proprio studio, il centro stile Fiat. E l'Anna Visconti, anche lei, centro studio di Pini Farina, poi dal 99 il suo bi-studio e sta andando avanti a lavorare. Però sono due nomi di donne che assolutamente nell'universo molto maschile del car design non sono assolutamente conosciute. Qua abbiamo cercato di andare avanti, diciamo con un gruppo di amiche con cui ci siamo sempre confrontate su questo tema e siamo arrivati poi al 2008 con Luisa Bocchietto, che tra il resto è l'attuale presidente di quello che non si chiama più ICSID, ma che si chiama World Design Organization, che è stata, come dire, anche una realtà che la stessa Anna Castelli aveva tempo, tempo, tempo fa presieduto e siamo riusciti a mettere in scena a Torino una mostra, proprio per questa occasione del 2008, quando per la prima volta si è fatta questa città del design, eccetera, come il titolo era stato D come design, la mano, la mente e il cuore. Con questo D come design che è un po' ambiguo, che poi è diventato anche il titolo, diciamo così, della nostra associazione, e poi con queste tre parole chiave, la mano, la mente e il cuore. Quindi la mano che disegna, che va a coniugarsi con la mente e ovviamente con il cuore. E come dire, il problema è sempre stato quello, già dal 2000, ma in particolare sempre di più dall'8 al 10, di capire quali sono le peculiarità della progettazione al femminile. Quando avevo fatto una mostra nel, credo, nel 2000, no, metà del decennio, niente di meno, nothing less, avevo chiesto a Michele De Lucchi una riflessione proprio sulle progettiste, sulle donne. E Michele ha scritto un bellissimo testo a chiusura di questo volume che poi aveva pubblicato alle mani, dicendo che lui in studio preferisce sempre avere delle collaboratrici donne, perché sono molto più attente, molto più impegnate, sono molto più propositive che non un uomo. Qui però c'è da fare un piccolo inciso, questo valeva per le antesignani, ma credo che valga anche a oggi e Sara stesso penso che ce lo possa confermare, che perché a tutt'oggi, perché una donna sia considerata al pari livello di un uomo, deve essere comunque un po' più brava, allo stesso livello è l'uomo che prevale. E qui, come dire, una delle analisi che stiamo facendo ancora come team, eccetera, è quello legato, farà magari anche sorridere, ma anche abbastanza vero, al discorso del cervello delle donne, che ha delle specificità diverse dal cervello dell'uomo, alla questa straordinaria capacità che abbiamo di mettere in comunicazione i due emisferi cerebrali, due modi di pensare diversi, l'emotivo e il razionale. E quindi, se noi guardiamo un po' la storia, vediamo come l'intelligenza emotiva della donna porta a quella sensibilità e a quel pragmatismo, a quella empatia e a quella capacità di essere multitasking sempre, che è una delle specificità che noi andiamo a trovare, se al di là del discorso delle donne in genere, lo andiamo a fare entrare su quello che riguarda proprio le designer. Designer che hanno sempre più assunto un ruolo di primo piano nel territorio del progetto, dall'architettura di interi e dall'interior design sicuramente, ma anche all'industria, al fashion, al web design oggi. E naturalmente, se noi guardiamo anche un po' il panorama, vediamo come il loro numero è assolutamente raddoppiato rispetto alle analisi che avevamo fatto inizialmente. Però, pur essendo molto aumentato, non coincide, e questa è una delle cose che stiamo cercando di capire, come ha questa presenza nelle aule universitarie di donne rispetto ai ragazzi. Sono veramente in un numero spropositato, non è più il 50-50, è quasi il 90-10, però questo non si va a rivedere nel discorso poi della professione. Sono pochissimi, quasi inesistenti, gli studi che si sono aperti con il nome di una donna a porta bandiera nel tempo più recente, anche se naturalmente andiamo sempre a guardare come si è fatto nel passato, che molte donne sono dentro degli studi, con i mariti, con i compagni, oppure dentro degli studi che hanno un nome, che ha un modo di rappresentarsi, ma che non è un cognome per certi versi. Comunque, un altro dato curioso che stiamo vedendo, che stiamo guardando, è come sono cambiati i curricula. Prima, le Gaia Eulenti, le Cini Boeri, le Anna Castelli Forie, i loro curriculum erano molto asciutti, e mai si parlava di mariti, mai si parlava di figli, mai si parlava di attività che non fossero quelle esclusivamente legate alla professionalità. Adesso no, adesso si mette addirittura in prima fila quali si sbandiera l'avere uno, due, tre, quattro, cinque figli, mariti, attività complementari, anche sportive, curricula molto all'americana, per certi versi, che prima sono apparsi in quelli degli uogni, ma adesso che riscontriamo in quelli delle donne. Comunque, c'è da dire sicuramente che le designer hanno assunto, io credo, un ruolo di primo piano nel territorio del progetto, e hanno saputo e sanno usare assolutamente differenti linguaggi e, soprattutto, altra cosa che intriga molto, come sanno affrontare e con successo le sfide dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie, che è la cosa che interessa molto. Quindi direi che nel DNA delle donne, nella loro epigenetica, forse potremmo dire, è riscontrabile un'essenza ancestrale che le rende capaci e attrezzate di fronte alla crescente complessità. del presente e del domani. Sono maggiormente sensibili e più capaci di comprendere e gestire le emozioni proprie degli altri e farle diventare le emozioni quel qui di più del prodotto che lo rende unico e ripetibile. Grazie. Trovo sempre illuminanti le parole di Antti che ci invitano a riconsiderare, a guardare ancora elementi progettuali, ma anche elementi profondamente umani, perché il vero design non può mai prescindere da un profondo contatto umano con i materiali, con le tecniche, con la storia. Antti è stata tua a insegnarmi la definizione dell'Adi. Il design è un processo creativo culturalmente consapevole. Cultura, consapevolezza, creatività sono termini che in filigrana tu hai evocato cercando proprio di dare un taglio specifico legato alla concezione femminile. e ritorneremo su questo nella nostra conversazione. La seconda protagonista della conversazione di oggi è Sara Ricciardi. Qui c'è scritto milanese, milanese un po' diciamo di adozione, perché Sara è di Benevento e quindi connota molto bene sia una visione molto del sud, ma di un sud legato a una romanità non dimenticata, per fortuna, con un approccio del design invece tipico di Milano. Sei stata definita la designer più instagrammata della Milano Fashion Week e, cito, ti autodefinisci impegnata 24 ore al giorno nel costruire nuovi varchi e nuove visioni, che è già un'idea dell'energia che anima Sara. Sara ha una formazione come product designer, ma il suo lavoro copre una vasta area, quindi dai vasi astratti alla performance art al design sociale. L'opera che ha catturato l'immaginazione dei social media alla Milan Design Week di quest'anno è stata un'installazione interattiva chiamata Arcadia e per Molière Faber, la nostra conversazione di oggi, abbiamo chiesto a Sara di raccontarci un po' la sua visione, il suo approccio e anche i suoi rapporti con i mestieri d'arte. Sara, benvenuta, il podio è tuo. Buonasera a tutti, sono Sara Ricciardi e sono onorata di essere qui a rappresentare una Molière Faber. Vi vorrei però appunto parlare nello specifico di quello che è stato il mio percorso e di quello che io affronto come Molière Faber, che oggi è una definizione molto particolare, perché abbiamo delle definizioni che non sono più specifiche come nel passato. Oggi ci muoviamo in un momento particolare in cui il carattere della Molière Faber è variegato e copre veramente molti aspetti. Io sono di Benevento, ho studiato tra Milano, ho studiato tra Milano, New York e Istanbul. Benevento mi ha dato delle profonde radici e molto entusiasmo. New York mi ha insegnato a fallire e ad agire. Istanbul invece è stata una città che mi ha dato tutto un aspetto di partecipazione politica e sociale. Io lavoro solitamente in luoghi... Perdonatemi, ho un problema con queste slide impazzite. Ecco, lavoro solitamente in luoghi di questo genere in cui regna il caos. Sono una persona che necessita di attorniarsi di materiali, possibilità, potenzialità. Una cosa che dico sempre, appunto, in principio era il caos. È dal caos che poi è venuta a crearsi una nascita perché qualcuno ha deciso di riordinare delle narrative. E con potenzialità... Scusate, io ho un problema qui perché lui decide di andare da solo. Benissimo. Quindi io premo lui così, senza... Scusate questo deficit. Quindi una delle prime cose che dico in questo caos è riuscire a provare le potenzialità e con fiducia, perché fiducia è una parola molto importante, selezionare. Selezionare e far sì che quello diventi una propria narrativa. Dunque, cosa progetti? Io progetto, sono una designer che si occupa di workshop, prodotti, didattica, insegno all'Accademia di Belle Arti Social Design e di interni di Exhibition Design. Con gli studenti io sono sempre molto attiva. Bisogna fare, bisogna agire, bisogna studiare le dinamiche, il territorio ed essere capaci di mettersi in discussione ed elaborare delle... Solitamente andiamo a lavorare su comunità, andiamo all'interno di Milano a lavorare con ambienti particolari, casi popolari, per cui progettiamo delle installazioni urbane per creare relazione tra le persone e interazione. Costruiamo sempre dei cantieri aperti, dei cantieri aperti, per cui continuiamo continuamente con materiali ad includere le persone, a rielaborare ciò che succede attorno a noi e ad entrare in stretto contatto con le persone e a creare delle grandi dinamiche di stare insieme, di progetto, per cui realizziamo nell'effettivo questo archipelago urbano, che è una piazza mobile, aperta per le persone, per cui poi si creano grandi momenti di festa e di sinergia collettiva e anche proprio di... perché secondo me è sempre molto interessante avere questa traiettoria intergenerazionale di inclusione. Dopodiché c'è una parte che invece riguarda i prodotti, che è molto diversa. Vi parlerò nello specifico delle mie pratiche di Kebana. Io a un certo punto tutto questo mio essere entusiasta, sempre molto generosa, mi richiede però di ricapire e di rimodulare questa generosità personale. Quindi approccio a Kebana, che è un'antica pratica giapponese di composizione floreale. Gli antichi samurai utilizzavano l'Ikebana come grande celebrazione agli dei prima della guerra, perché era un momento in cui bisognava prendere un elemento naturale e dargli il suo spazio, la sua attenzione. Quindi da lì è nato il mio progetto Natura Morta, che è tutta una serie di elaborazioni, di supporti per del materiale naturale che io ho raccolto in varie passeggiate per dar loro una sorta di importanza. E mi piace anche molto lavorare con materiale morto, io lo chiamerei così, nella sua ultima posa, perché le persone hanno anche molta paura di rielaborare l'elemento naturale caduco, asciutto, secco, che invece io amo enfatizzare ricreando questi supporti. Questa sorta di lavoro mi ha fatto anche molto concentrare su cosa significa elaborare un momento e dargli una sua importanza e chiuderlo, senza sempre creare un overload di messaggi che oggi è sempre complesso da maneggiare. In più, appunto, collaboro con le aziende. Con le aziende, è molto interessante, vi parlerò per esempio di questo esempio, Wallpaper Magazine, quest'anno mi chiama a reinterpretare il diffusore d'ambiente, quello, come vedete, per Culti Milano, che è una boutique milanese di profumatori d'ambiente, e mi richiedono, Sara, fai qualcosa per queste bacchette che vengono sempre inserite allo stesso modo in queste boccette. Allora, Culti, l'azienda si chiama così, io sono andata lì in azienda, ho parlato appunto a Roli, io solitamente arrivo sempre con, dispiegando sul tavolo tutti i miei materiali, i miei esperimenti, perché sono molto manuali, ho bisogno, come avete visto nello studio, di interagire con la materia, e prendendo ispirazione da culti, creo i templi, che sono un luogo in cui viene praticato il culto, quindi con svariati incontri con l'azienda, perché è sempre molto importante avere a cura il cliente e le sue sensazioni, e tutta la parte di progettazione che anche c'è a livello di computer, vado a creare una collezione in ottone e vetro, rimodellando quelli che sono i midollini in legno, per creare queste architetture che ricordano i templi greci e romani, quindi questa sacralità che viene dispiegata nei diffusori d'ambiente. Invece, poi vi parlerò invece delle collaborazioni che ho con gli artigiani, che sono molto diverse da quelle che si vengono a creare con le aziende. Vi parlerò, ad esempio, della prima in assoluto che ho avuto, che viene da un'affascinazione da piccola, mi portavano le solite gite alle elementari, mi portarono alla Certosa di Padula, che aveva questo altare pazzesco in gesso scaiola. Io rimasi colpita da quel blu, perché era un blu che veramente catturava la retina ed è rimasto lì, sedimentato da qualche parte. Nel tempo, poi, che non sapevo ancora che avrei intrapreso gli studi di design, dovevo essere un economista per i miei genitori, avrei poi per il mio percorso di tesi, mi sarei praticamente presentata da loro, che sono Bianco Bianchi, questa stupenda botteca artigianale a Pontassieve, nel Fiorentino, che lavorano proprio il gesso scaiola, che è un'antica tecnica per fingere i marmi, perché nel 1700 ci fu una crisi appunto per creare i commessi fiorentini e si falsificava il marmo creandolo con delle paste in gesso. Io solitamente mi presento dagli artigiani, qui ero ancora una studentessa, mi presentai con la betoniera e dissi sperimentiamo insieme, immaginate un fiorentino che tu arrivi così. La prima reazione non fu delle migliori, però poi lui si appassionò questo entusiasmo in questa grinta e mi lasciò sperimentare con lui delle nuove paste, inserimmo fibre di vetro, alleggerimmo, creiamo anche delle nuove colorazioni e io sempre con le mani insieme a lui a capire, sperimentare, la sua conoscenza e la mia freschezza di approccio ci portarono poi a una serie di collezioni, di tavoli, di quid che erano appunto questi moduli in gesso scaiola che reinterpretavano un po' la sua maestria. Un'altra collaborazione invece di cui vorrei parlarvi è quella che l'anno scorso mi ha visto come partecipante a doppia firma e ringrazio moltissimo Living e la Fondazione Cologni per avermi invitato a collaborare con Niccolò Morales che è un artigiano bravissimo di Caltagirone. Ci ritroviamo in studio da lui, succede sempre questa cosa, io setto in maniera un po' silenziosa tutto il mio studio ritagliandomi un angolo del suo laboratorio e lo osservo, è molto importante capire in cosa, qual è la peculiarità dell'artigiano. Quindi Niccolò Morales era bravissimo proprio a tornire le forme anche in grandi volumetrie. Poi iniziai a fare delle passeggiate per Caltagirone e incontrai questo chiosco all'interno della villa comunale che aveva tutte delle geometrie, dei pattern che mi colpirono tantissimo. In questo cocktail emotivo di tre giorni a Caltagirone io che sono anche sempre molto manuale su carta millimetrata iniziai a proprio disegnare questi nuovi sgabelli che si chiamano resti in onore proprio dei resti che potete trovare a Caltagirone sembrano resti di capitelli di una civiltà antica e sarebbero poi nati loro. ecco qui delle immagini che ecco queste sono delle foto dei resti alla gamma alla Galleria di Arte Moderna in cui ci siamo divertiti con le guardiani e gli inservienti a far sì che fossero parte del contesto. Come ultima cosa vorrei parlarvi invece della mia parte di installazione che appunto vengono definite le più instagrammate che è una cosa di cui non ti preoccupi minimamente all'inizio però effettivamente oggi è una richiesta molto molto presente ve lo dico da progettista a volte ti chiamano senza alcun concept e ti chiedono puoi farci un'installazione che possa andare ovunque su instagram è una richiesta molto particolare perché cambiano i tempi e oggi le cose si fruiscono dai social ad ogni modo in questa le installazioni prendono fanno sì che le persone debbano esperienziare qualcosa con il corpo con i sensi quindi bisogna includere le persone all'interno di una spazialità che non avevo mai appunto osservato nel prodotto va al Alice Story Lichtenstein che è la curatrice dello Schloss-Holleneck-Design in Austria che è un castello bellissimo dove organizza stupende residenze mi chiede di lavorare su una parola eredità legacy su cui lei avrebbe poi fatto una mostra e mi chiede puoi portarlo alla design week di Milano che era appunto la design week scorsa che cosa succede che inizio a proprio masticare questa parola eredità e invitata all'interno del castello la prima cosa che mi si apre davanti è questa carta da parati che è la stanza dove io poi avrei dormito che è una carta da parati di fine 1600 delle cineserie che gli aristocratici amavano mettere nei propri salotti e iniziai da lì a capire quanto questa eredità fosse visibile ovunque l'eredità è qualcosa che non scegliamo nessuno di noi sceglie il nostro patrimonio genetico culturale materiale è qualcosa che ti arriva e subito io ho iniziato a ritagliare pezzi di carta a capire che questo questa eredità era un volume aveva un peso nella vita di ognuno di noi inizio a fare degli schizzi inizio a comporre un po' quello che è il mio immaginario vi lascio soltanto vedere pochi secondi di questo video perché è un'installazione che appunto mi era stata data questa cantina questa all'interno del distretto di Cinque Vie che io ho riarredato con una degli artigiani meravigliosi di Torino tappezzeria Druetta e abbiamo creato questo volume questo gigantesco volume gonfiabile in cui le persone entrando si trovavano un po' spiazzate da questa volumetria pesante però poi semplicemente toccandolo si rendevano conto che potevano giocare e interagire allora tutto diventava molto più più leggero e quindi questo per me era cosa significa l'eredità è qualcosa che non scegliamo certo ma è qualcosa con cui possiamo relazionarci e giocarci e questo per me era un elemento molto importante esattamente come fa Alice qui siamo io e la curatrice all'interno della stanza questa sono io alla fine della design week sotto la palla perché è molto complesso e quindi è molto importante come vorrei finire dicendo che l'identità è qualcosa da portare nei propri lavori collezionare immaginare storie sperimentare con metodo errare e catalogare i propri sbagli e un esercizio continuo perché la creatività è un muscolo e va esercitata continuamente grazie 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 Sara accomodati al centro Antì ti prego di accomodarti vicino a Sara abbiamo qualche istante per qualche domanda Antì credo Antì che dal racconto di Sara sia emerso in maniera molto forte come forse dall'estetica ma più che l'estetica la ricerca femminile abbia una capacità analitica e selettiva diversa sulle fonti allora per una giovane tu sei una storica proviamo a scrivere la storia del futuro la storia del futuro del design al femminile che fonti avranno a disposizione le designer di domani hai citato prima dei nomi leggendari dell'architettura e del design al femminile oggi quali sono i punti di riferimento che a tuo avviso nel futuro potrebbero diventare radicali rilevanti le designer che noi come dire che sono delle che appartengono ormai alla storia hanno tutte delle formazioni all'interno o delle facoltà di architettura o delle accademie di belle arti e hanno avuto tutte un percorso abbastanza rigoroso e hanno acquisito nel tempo degli strumenti che sono per certi versi analoghi le une e le altre e poi con le singole capacità li hanno coniugati eccetera oggi il panorama è molto più articolato io credo molto più articolato e sono molto diversi i campi dai quali un designer o una designer può andare ad attingere nel lavoro di Sara che in parte conoscevo poi adesso abbiamo anche un po' rivisitato si vanno a cogliere tutta una serie di elementi che ci riportano anche a certo passato quando lei parla di social design e degli interventi che fa molti di noi che hanno qualche anno più di Sara ricordano tutta una serie di eventi e di interventi degli anni 70 che non so quanto di cui quanto Sara sia consapevole ma credo che qui in sala ci siano altre designer che queste cose se le ricordano se le ricordano bene perché hanno qualche anno cito Elisabetta Gonzo che è una designer di chiara fama che appartiene a una generazione che non è quella ovviamente né di Gae né della Castelli è una generazione di mezzo tra quella di Sara e quella delle storiche di quelle morte oltretutto che Elisabetta vive in vegeta comunque la storia e la memoria secondo me giocano moltissimo ma poi sono tantissimi altri io credo oramai i mondi ai quali si può attingere a piene mani e ho l'impressione che forse le donne hanno e avranno più capacità di sapere attingere mentre da parte degli uomini c'è forse l'essere più rimasti in certi binari ancora una volta quindi l'apertura si rivela come un vantaggio competitivo rispetto alla chiusura homo faber è davvero una mostra che apre le braccia a tante suggestioni a tanti territori Antida da grande storica e da maestra riconosciuta di una certa storia e storiografia del design mette prudentemente l'accento proprio sul fattore della memoria Sara tu vieni da una città di memorie e hai sposato una città che le memorie continuamente se le ricostruisce quando vieni al Politecnico a fare lezioni anche ai miei studenti loro rimangono affascinati da questo tuo eclettismo da questa tua energia ma anche dalla tua passione per una memoria che diventa patrimonio collettivo allora la tradizione davvero è un peso che ci impedisce di essere creativi e innovatori o è un propellente qual è il tuo messaggio per le moliere sfabre del futuro ma io credo che il patrimonio che abbiamo è incredibile non c'è identità che non affonda le sue radici se vogliamo essere personaggi con personalità dobbiamo assolutamente essere coscienti e consapevoli di ciò che abbiamo in Italia poi c'è un fiato un respiro molto grosso riguardo proprio all'identità però dobbiamo far sì di cercare un dialogo con esso anche con i nuovi strumenti con ciò che siamo oggi con il mondo cambia e non bisogna però essere assolutamente distruttori di ciò che c'è stato prima ma attingere per ritrasformare questo secondo me deve essere un po' chiaro nel senso che non c'è mai una totale rottura si affonda sempre in qualcosa che è come se ci spingesse verso una traiettoria e sentirlo ci rende semplicemente persone più potenti di esprimere poi un nuovo messaggio la potenza la potenza del messaggio come una persistenza della memoria questo credo che sia in filigrana un messaggio straordinario che oggi avete dato anche ai giovani ai nostri young ambassador che sono presenti oggi e che rappresentano il futuro del design e dei mestieri d'arte un design al femminile che però non è un limite ma come giustamente Antti aveva detto è niente di meno anzi è molto di più e che come Sara quotidianamente insegna e ribadisce consente di mettere insieme prospettive e punti di vista che isolatamente avrebbero poco senso e che invece insieme danno una prospettiva nuova Antti Sara grazie infinite e grazie a tutti grazie